Abbiamo misurato la luce ambientale prima della porta, che è di 10 andate, quindi abbiamo misurato l'angolo, che misurava con 10, e poi abbiamo misurato la distanza, no l'altro angolo, abbiamo misurato tutti gli angoli. Quindi diciamo i valori di luce che vi dava in questi punti. Poi abbiamo misurato la lavagna, la luce riflessa della lavagna, che è 24, poi abbiamo misurato la finestra, che è la 66, e i due tavoli, quello più vicino alla finestra è la 35, e quello meno vicino è la 28. Ok, quindi diciamo la cosa più luminosa in questa stanza qual è? La finestra. Quella meno luminosa? La porta. La porta, anche la lavagna forse, l'angolo della porta. Ok, e il muro, diciamo il muro e il tavolo 30, perché sono bianchi e probabilmente riflessano bene la luce.